La tanto attesa pioggia alla fine è arrivata, ma invece di portare acqua al nord, afflitto dalla siccità, ha cambiato direzione, spostandosi sull'Italia centrale, altra area dove ha piovuto poco e, in un territorio inaridito da mesi asciutti, l'arrivo di temporali può essere un pericolo. È stata quindi diramata l'allerta gialla della protezione civile per nove regioni, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Calano le temperature e questo è un rischio per i raccolti e per le piante che, stimolate dal caldo di febbraio, hanno germogliato. Ora il freddo potrebbe bruciare gemme e boccioli. In Italia, secondo l'analisi della Coldiretti, su dati ISAC e CNR, abbiamo un deficit idrico del 30% che sale al 40% nel nord Italia. Quindi pioggia e neve, questa sempre meno presente su Alpi e Appennini, sarebbero le benvenute. Una primavera normalmente piovosa, con neve in montagna, tuttavia porterebbe sollievo, ma non basterebbe per recuperare il deficit idrico accumulato in questi anni caratterizzati da scarse piogge e temperature sopra la media. Coldiretti e Ambi sottolineano come, a fronte di periodi di siccità sempre più frequenti, la raccolta dell'acqua piovana è ferma all'11% da anni, mentre serve agire per migliorare le nostre capacità di accumulo di acqua dolce, sia per usi civili che per quelli agricoli.